Benvenuti a tutti, io sono come sempre il Biden e questo è un nuovo video di YouTube per voi e per tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento live su Twitch Dobbiamo parlare del Decathlon, perché se ne sono dette tante su questo canale del Decathlon, ribadisco tutto quello che ho detto finora Gli eventi 3 e 4 lo sappiamo sono stati un grave disastro, ma proprio grave lì, c'è stato un errore di concetto che gli ha fatti essere degli eventi orribili Mentre con questi due eventi, ovvero il 5 e il 6 ragazzi, si è alzato il tiro, sono stati proposti due formati che sono formati veri che non rompono il gioco ragazzi Perché nonostante ci fosse Alchemy all'interno dei due, devo dire che Alchemy per me è stata una bella sorpresa, ma proprio bella Mi sono goduto tanto il Decathlon numero 6 e ho fatto un bellissimo 7-2 con BR Anvil, mazzo vero, mazzo con tanti trigger, mazzo interessante E comunque ho battuto 7 mazzi diversi perché abbiamo giocato non 7 mazzi nello stesso evento, ho avuto una coppia nell'evento Però ho giocato contro 7 mazzi diversi nei due tentativi che ho fatto perché uno l'ho fatto e ho fatto 4, l'altro l'ho fatto e ho fatto subito 7-2 7 mazzi diversi in totale, Cabaretti, Monored, Goblin, BR, BR Anvil, Jund e Celestia Game Life E poi c'era un UR, in realtà sono di più allora, c'era anche un UR, un UR tempo E varie altre cose molto molto carine Quindi per me Alchemy promosso a pieno e promosso a pieno ragazzuoli è stato anche questo bel Decathlon Traditional Draft Allora, parto subito dicendolo, io gioco principalmente Best of 1 ma devo dire che giocare Best of 3 nel Decathlon in Draft Che tra l'altro è limited quindi è un formato che io non gioco praticamente mai Mi ha divertito, mi è piaciuto e soprattutto l'ho trovato istruttivo Perché? Perché rispetto a un Premier Draft giocare con il pensiero di dover prendere anche delle carte di side E io ho vinto grazie delle carte di side Diciamo così, è stato per me come fiondarmi all'interno di una scoperta Una scoperta che mi ha piazzato in un mondo bellissimo Perché era il mondo del caspita anche nel limited Finalmente devo ragionare come se stessi giocando per davvero Mi spiego Su Arena c'è un grossissimo problema Il grosso problema di Arena è che le partite classificate Cioè le uniche che hanno un senso essere giocate purtroppo ora sulla piattaforma Sono in Best of 1 nel limited I Premier Draft, i famosi Premier Draft E quello è un grosso problema perché non dà l'esperienza del cartaceo quella cosa lì Nel senso che se l'avessero fatto anche per il Best of 3 e non solo per il Best of 1 Sarebbe stata una cosa migliore Anche se nel Best of 3 ovviamente si portano a casa i playing points Quindi bisogna un pochino ragionarci Il bello di questa però era che aveva le regole di un Best of 1 Ma era in Best of 3 perché si potevano perdere due partite Senza per forza interrompere la corsa alle 7 win Cosa che non è così invece nelle 3 mi sembra partite del draft tradizionale normalmente su Arena Quindi mi ritrovo in questo bellissimo draft Buongiorno scroto, ho letto tutto, lo sapevo già, mi ha già scritto il morde Quindi mi ritrovo in questo bellissimo traditional draft Drafto bene, faccio due tentativi che tutto sommato mi portano sempre a doppia busta Quindi l'investimento nelle risorse è andato bene lo stesso E poi faccio questo terzo tentativo Madonna santa, questo terzo tentativo è stato... Io penso che a volte dovrebbero quasi analizzare il cuore dei giocatori di Magic Perché a un certo punto si sudava, ero talmente in ansia perché volevo fare perfect E poi ho fatto perfect Che davvero non ci stavo più dietro Quindi mi ritrovo in questo bellissimo evento Drafto un mazzo con i controcoglioni nei colori Orzov Grazie a un rare pick di prima busta che poi vi spiego E sbaraglio tutti gli altri Ne esce un mazzo midrange tempo molto molto buono Con alcune peculiarità Che ricalcano le strategie Reanimator e le strategie Ramp Andiamo a vederlo nel dettaglio Prima di reclamare il premio Altrimenti poi lo perderò per sempre Anche se ho gli screenshot Eccolo qua ragazzuoli e ragazzoni miei Questo è il mio bellissimo Orzov Allora Allora Come vedete ci sono 41 carte Già questa cosa è incredibile Draftare a 41 carte significa fare una scommessa L'ho fatta e ha portato bene Ma perché draftiamo a 41 carte? Perché c'è Mishra's Bubble Allora Mishra's Bubble in limited Può essere inserita in qualsiasi momento Perché essendo gratis e facendoti pescare una carta È come se non contasse nel risultato finale del mazzo Quindi un consiglio Se avete Mishra's Bubble nel vostro mazzo Giocate pure a 41 carte Non togliete niente per la presenza di bolla E questa era la prima touch del mazzo 17 terre 9 swamp e 8 planes Lay down the arms in monocopia Perché è la removal più forte Se si hanno le pianure Disfigure Soprattutto perché esilia Soprattutto perché esilia Ormai la conosciamo bene anche in historic Disfigure Che rappresenta sempre una staple del limited Sempre forte Togliere i pezzi aggressivi E in questo formato ce ne sono tanti di aggressivi A2 Di costituzione Questo bellissimo Vermin Che io secondo me lo vedremo giocato Secondo me questo qui arriva giocato anche in historic a un certo punto Arriverà a qualche mazzo che lo vuole provare Perché Non è solamente una creatura Che se muore Può togliere ad esempio una Solvarden Comunque una creatura fastidiosa Ma cosa fa in peculiare questo Questo milla due carte all'oppo O ti milla due carte Secondo me è un'ottima carta anche da costruito Da provare da qualche parte Qui mi ha fatto vincere due partite Mi ha fatto vincere due partite perché Millando gli ho millato una rara bomba Ciao Enigma E poi gli ho millato una terra che serviva un altro oppo Quindi Grazie al ratto abbiamo portato a casa un paio di game Poi avevamo il Power Stone Engineer Io credo che sia una delle carte più forti del limited Per rampare questa Insieme al drop verde A tre che te la mette dentro direttamente Ma perché è un drop a due Comunque mena È tanta tanta roba Ho visto ho visto il Signore dei Ratti Ho visto Tanta roba È un pezzo aggressivo difensivo Che se muore comunque ti fa una rampata Per i tuoi artefattoni Molto molto forte Beh questa penso che non ci sia bisogno di presentarla È il motore del mazzo A un certo punto Lui ti dà l'Ace Game Comunque c'amblocca bene Molto molto buono il Traxodemon E poi i Mineworker Madonna mia i Mineworker Delle miniere di Urza Ragazzi Sono fortissimi Sono stati fortissimi Mi hanno tenuto in vita per quattro partite Fino a quando poi facevo win condition Ma è un 2-1 Che è aggressivo e contenitivo allo stesso tempo Perché comunque Ma si mangia 2-2 Il signorino E poi ti ridà una vita Non è male Non è male davvero Quindi loro sono stati veramente fondamentali L'ho presa in monocopia Un'altra potevo piccarla Ma l'ho passata per un'altra carta più forte È un'ottima removal Il grosso vantaggio è che ti scraia Quindi ti aggiusta la pescata La grossa gabola che ha Ovviamente È che targetta solo creature E non la rimuove Non la esilia Quindi lei se ha degli effetti statici Sulla bordo O delle passive Purtroppo le attiverà sempre Non le abilità attivate Ragazzi Le passive Ovviamente E quindi L'ho presa È forte Soprattutto contro aggro Però Non è diciamo così La migliore removal del formato Yotion Yotion mi serve Mi è servita Per contenere gli aggro E per ridarmi un late game Contro alcuni mazzi a base verde Perché ad esempio Il 3-2 Non ci passa sopra Quello che mette dentro powerstone Il 3-3 Senza che entri un altro Artefatto Non gli passa sopra Contiene tanti pezzi Sia bianchi Neri che verdi Il rosso Poi non parliamone Se lo mangia a colazione Per di più a lifelink Ed è soldato Lo possiamo potenziare poi Con l'aeronauta Quindi Ottimo pezzo in uno per È un pochino una Una tess questa Abbiamo poi il Battlefield Butcher Che è la carta più forte del mazzo Questa è la vera mitica del mazzo Ragazzi Questa carta è fortissima Mi ha fatto vincere 4 partite Partite 4 Ma proprio partite Cioè È grazie a lui Che ho portato a casa 4 match Perché è la win condition del mazzo Questo è un certo turno A un certo punto Stalli la borda Hai troppi pezzi Che contengono Hai Worker che ti danno vite E lui lo attivi In base a quante creature hai Nel cesso Fai due danni Fai uno shock a turno E piano piano L'avversario muore Le locuste sono sempre belle Sono un drop volante Che quando entra Fa comunque un danno Quindi pinga un danno Quando entra Regigliando un pezzo Dal cimitero del loppo Sei creatura E poi mena per due volando Sempre buone 3 Questa è stata la carta Un po' più inutile Ma l'ho tenuta Perché a un certo punto Può diventare grossa Se si è fortunati Non particolarmente tanto In questo mazzo Devo dire Però può diventare grossa Ancora di più Perché Ragazzuoli miei È un 2-3 E il fatto che sia un 2-3 È importantissimo In questo meta È veramente importantissimo Quindi Ottimo pezzo anche questo Non è Non è fondamentale Se non lo piccate Non impazzite Però come drop a 3-2-3 Non è male Anche perché può diventare grande Eccole qua Allora Era stata la prima rara Che ho piccato È quella con cui ho costruito il mazzo L'ho vista Ho detto È la removal più forte del formato Anche se è a tempo strega Non posso farla scappare Ho preso una scelta Ho piccato poi In base al colore Perché Non puoi fare Diversamente Se prendi una rara Come questa All'inizio E non trovi subito Due bombe non comuni O comunque una bomba comune Subito dopo di lei Devi ragionare attorno ad essa E Ci ho costruito questo orzo Vai grazie a dio Dopodiché Tra l'altro Un pazzo Un pazzo Probabilmente che non stava piccando Bianco nero Me ne passa un'altra E lì ho capito Che il mio mazzo Avrebbe portato a casa Tutto Perché avere Il 2-3 di questa removal Vuol dire davvero Non avere più paura di niente In tutto il limited E' veramente fortissima questa Questa E' forte perché esilia E' forte perché toglie le copie token Quindi anche alcuni prototipi Muoiono male con lei E' forte perché costa poco L'unica sfiga che ha E' che non è istantanea Non poteva essere perfetta Ma giuro Cioè quando l'ho vista Ho detto Ce l'ho in 2x Non posso non fare risultato Poi prendo anche questa Caspita Questo è Oblivion Ring Che però ti fa anche due vite E ti rampa E Non Cosa devo dire di più Questa per forza Andava presa Una delle migliori removal del formato E si è dimostrata tale Aeronauta Credo che sia il miglior drop volante Dopo il 3-3 forse Che ti mette Power Stone Questa è forte Perché Quel 4 di body E' fastidiosissimo Quel 4 di body E' fastidiosissimo E praticamente Stallando E uccidendo l'oppo Con questa E queste che ci danno vite Questa qua poi dà i colpi finali volando Quindi accelera la tua win condition Potenzia il tuo life linker Che intanto contiene Insomma Carta veramente Coi controcoglioni Carta coi controcoglioni Ci sta Contagging Limiter Allora vediamo del counter Esattamente Esattamente Poi abbiamo No one left behind Che è uno dei reanimini più belli Anche questo è un ottimo Ancammon L'ho usata poco Ma quando l'ho usata Mi è servita per contenere l'aggro In finale Sì in finale Contro un bianco verde Umani Tra l'altro lì Io adesso vorrò parlare anche di quell'oppo lì Perché secondo me ha fatto un errore concettuale E poi se lui magari vedrà questo video Se è italiano Mi piacerebbe che ragioni Attraverso le mie parole E capisca cosa intendo Questa l'ho vista in finale Mi ha fatto contenere Mi ha fatto fare vantaggio Perché ho fatto dal cimitero Il pezzo che quando entra pesca Mi ha contenuto bene la board dell'oppo Quindi Allora non è fondamentale Però Un reanimino Che ti riporta tutto quello che vuoi E potenzialmente Lo puoi fare anche nei primi turni Animando un pezzo piccolo Sinceramente Non ci fa schifo E qui le star del mazzo I miei bellissimi artefattoni Il classico prototipo con death touch Questo qui ragazzi Secondo me se voi piccate nero in limite Dovete sempre prenderlo È un 1-1 Questo 2 death touch Quindi blocca tutto quello che c'è on board E sta bene col verde Perché se fai La vita è forte Sta bene col bianco Sta bene col rosso Sta bene con tutto questo prototipo Se lo fai a 6 mana È un onesto 5-4 con death touch Non credo che bisogna aggiungere altro Poi Argivian Avenger Fortissima È un 4-4 volare Voi dovete considerarlo come un 4-4 volare Questo Oltre ad essere un ottimo bloccante 5-5 Costa 6 Lo so Ma è uno shape shifter Quindi può essere potenziato dal cavaliere Dall'aeronauta Scusate Sta bene con tanti lord In questo mazzo sta bene perché vola E diventa un 4-4 4-4 volante Insieme a un 3-4 volante È un pezzo che ti fa shock tutti i turni Fidatevi che gli oppo li ho buttati giù Molto facilmente Bello Bello molto forte Tra l'altro Potete usarlo anche come combat trick Perché prende detta C'è anche lo stronzetto Cioè Ha anche quello Carta bellissima Veramente bella Poi abbiamo il Thrasher Che è un drop a 3 Tendenzialmente Non l'ho mai fatto A 7 Credo che costi Giusto? Esatto Non l'ho mai fatto a 7 L'ho fatto sempre 3-3 Semplicemente è un pesco 1 È un pesco 1 Con doppio attacco Se lo rianimi È un bel 3-3 Con doppio attacco Che ti fa vantaggio Perché ti fa pescare carta Quindi Sempre bello Senza contare che è un artefatto Quindi lo puoi castare con le power stone Sempre bello E poi arriviamo Alla mitica del mazzo Mitica vera Non è la bomba del mazzo E la bomba del mazzo Rimane questo pezzo Questo drop a 3 Esagerato Un 1-4 Che fa winco Incredibile Arriva la mitica Con questa ci ho fatto Un altro token nel decathlon Che è quello del Bruttissimo standard Con i tesori Sapevo che era forte La vedo Dico Perché non dovrei piccarla Alcuni miei pezzi rampano Noi late game Lo facciamo Questa quando entra Mi toglie sempre un problema E al massimo Ne toglie due Se rientra dal cimitero Allora Qualcuno dirà Bombacentrico Questo limite In realtà Questa l'ho usata Una volta sola E non mi è servita Particolarmente tanto Mi ha fatto Chiusura Di una partita già vinta Come il Teferia 5 Di Brother's War È fortissima È fortissima Sicuramente il suo mazzo migliore È un verde bianco O un mono G Qui ha fatto il suo Ma niente di eccezionale Ripeto La vera mitica Del mazzo È questa qua Questa qui è stata Veramente 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 Fantastica È incredibile Quindi nulla da dire Nulla da aggiungere Questo era il mio mazzo Con cui ho portato a casa Il Decathlon Dico due parole Sulla finale Dove ho trovato Questo hop Che giocava Bianco Verde Soldati Ma che Siccome aveva preso Anche una Forse due Non lo so In ho visto Una coppia di Lord A quattro Che è bianco Blu E da più No più No tutti i soldier Ha messo Credo Una o due Isole E tra l'altro Aveva anche Le evolving wilds Per andare a prendere La mono isola Allora Lì c'è un errore Di concetto A me non piace Particolarmente tanto Usare tre colori In questo limited Secondo me Bicolor è sempre più forte Un po' perché Bisogna capire Che gli artefatti Sono molto forti E quindi Bisogna scegliere Una via degli artefatti Andare a cercare Un Mardu Perché so Che ci sono degli artefatti rossi Molto forti Che stanno bene Con degli artefatti bianchi Che fanno pezzi Lo posso capire Ma secondo me È meno performante È rimasto Esatto È rimasto incastrato Con i colori Esattamente In finale ha perso per quello Io ho fatto quello che volevo E ho vinto È andata così ragazzi È rimasto incastratissimo Invece qui abbiamo Una strategia lineare Bella Michelle's Bubble Ti dà una mano incredibile Anche se mi ha Ma io mi ha ligato a 5 In finale No In semifinale Scusate Ho mi ha ligato a 5 Michelle's Bubble Mi ha aiutato tantissimo Eccetera eccetera Quindi ragazzi miei Io sconsiglio vivamente Di andare a prendere 3 colori Solo se ci vede un lord Della propria tribe Perché lui probabilmente Stava facendo Selesnia E ha visto il lord E ha preso il blu Quindi Davvero Sconsiglio vivamente Di Tricolorare il mazzo Solo per Un pezzo che ti fa lord Con la tua strategia Piuttosto Metti un pezzo aggressivo In più Metti una removal in più Tra l'altro si giocava Best of 3 Quindi Bisognava ragionare anche di side Ecco E per la side mia Ovviamente avevamo Quando trovavamo Contro dei robottoni Una copia di disenchant Questa contro gli aggro Che comunque ci ridà vita E ci fa vantaggio E poca roba In realtà nel nero Avevamo questa situazionalissima Se trovavo un mirror Perché facevo scartare Questa che mi salvava un pezzo Non l'ho mai usata Questi ce li avevo Ma ho detto Non mi piace sacrificare pezzo Avevo anche altare Tra l'altro Mai usata Questa mi è stata utile In una partita Mi ha ridato Un paio di vite fondamentali Questo mai Mai Questo secondo me È completamente inutile E poi avevamo Soprattutto questa Che serviva Se Vedevo che Oppo faceva Tante pedine piccole Ma non ce ne sono Particolarmente tante Nel formato Quindi non l'ho mai usata Questo è stato il mazzo Ragazzi Per me è stato Un bellissimo limited Ripeto Ottimo limited Reclamiamo il premio Capisco Grazie mille Intanto A mister Dakard Per il follo Capisco Quelli che dicono Che magari Questo limited Non è male Grazie mister Dakar Grazie mille Grazie mille davvero Benvenuto Grazie di cuore Allora sicuramente Capisco che dice Che questo limited Non è il migliore Perché ci sono Delle bombe allucinanti Che stanno sopra Qualsiasi altra cosa E nei primi due tentativi Ho perso da Un Gix Command Che era impossibile Da gestire Ma aveva impossibile Da gestire E quella è una bomba Allucinante Però Io mi sono divertito Sinceramente Quindi Questo Decathlon 5 Si porta a casa Il mio cuore Terminiamo qui Il video per i ragazzi Di youtube Vi ringrazio Per aver visto Questo breve video Dove spiego Il Decathlon In realtà Sono comunque Un bel 20 minuti Di video Spero che lo draftiate Anche voi Spero che Arriviate anche voi Abbiamo 6 su 6 token Ragazzi Quindi Grazie di cuore Per chi vedrà Questo video su youtube Ci vediamo ad un prossimo video Grazie di cuore E ci vediamo Come sempre Rinnovando L'augurio Per voi Di poter giocare Un ottimo magic Come sempre deve essere Ragazzi E credeteci Anche se per caso Non è il vostro formato tipo Date una possibilità Perché essendo best of 3 È molto strano Ho trovato anche dei giocatori Secondo me Nel primo tentativo Che non sapevano esattamente Cosa stessero facendo Quindi se anche voi Rientrate in quella categoria Non abbiate paura Ce ne sono tanti come voi Tentate Giocate Ci vediamo alla prossima Ragazzi su youtube Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti